Buonasera, ben ritrovati con Diretta Verona, consueto appuntamento del giovedì sera su Telearena, il secondo appuntamento consecutivo che dedichiamo alle elezioni amministrative che nella nostra provincia riguardano 20 comuni, le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio, dobbiamo dire che man mano che ci si avvicina a questa data cresce l'attesa e cresce l'interesse in particolare in questi comuni, anche questa sera ne ospitiamo 4, sono dei confronti per certi aspetti inediti perché tanti magari così si svolgono nei teatri dei comuni, nelle sale. Qualcuno è davvero inedito per cui ringraziamo i candidati sindaco di questi comuni che hanno accettato il confronto qui nei nostri studi di Telearena. Partiamo da Nogara, poi da Nogara ci sposteremo a Garda, quindi torneremo verso la bassa ad Isola della Scala per andare ai piedi della Lessinia a Grezzana. Come di consueto, Lucio Salgaro, il collega della nostra redazione, per condurre... Insomma sono sfide, dicevamo, anche inedite queste, Lucio. Sì, beh, mi pare che sia l'unica volta per i candidati di Nogara che si trovano tutti quanti assieme e questo avviene solo qui a Tenerera. Ti lascio, partiamo subito con Nogara, poi ci rivedremo per Garda. Bene, grazie Mario. Nogara va a votare a breve distanza dalle ultime elezioni amministrative in quanto si vota in modo anticipato, il Paese esce da un commissariamento, le sorti del Comune erano rette fino allo scorso autunno da Simone Falco che si ripropone con la sua lista della Lega Nord senza la componente civica che è stata fondamentale nella caduta dell'amministrazione. Quindi la prima domanda ai nostri ospiti è quella perché si è arrivati al voto anticipato a Nogara. Cominciamo con questo ordine, Enrico Benatti-Fezzi della lista Insieme per Nogara. Secondo lei che lettura dà di questa crisi? Buonasera a tutti, io sono il candidato sindaco per la lista Insieme per Nogara e secondo me io do una lettura mia personale a questa debacle, diciamo, dopo un anno. Per me è dovuta il fatto che la squadra composta da Simone Falco era una squadra non vista, non incentrata su delle idee comuni, ma era una squadra che si è messa assieme, probabilmente anche per vincere le elezioni e in questa squadra mancava quella capacità di poter portare avanti un discorso e poter creare delle nuove opportunità per Nogara. Proprio perché era molto disgregata tra di loro, non hanno trovato delle idee comuni e una stabilità, un'aggregazione su alcune cose amministrative, alcune priorità amministrative per poter arrivare fino alla fine della legislatura. Simone Falco? Buonasera a tutti, le motivazioni secondo me sono molto più fini, nel senso che ufficialmente è stata comunque la questione ospedale a far cadere la mia amministrazione, sono altrettanto convinto che le motivazioni non debbono essere viste qui, anzi, forse nell'ospedale qualcosa sì, ma proprio per il fatto che sull'ospedale finalmente la nostra amministrazione, non quelli ovviamente che vanno mandato a casa, avevano voglia, avevano già iniziato a fare qualcosa, mentre quell'aspetto è un qualcosa che si tramanda di legislatura in legislatura lasciandolo sempre lì e le stesse facce che sono quelle che hanno alla fine portato alla progressiva chiusura sono quelle che ancora i giorni d'oggi si ripropongono. Un'altra motivazione è stata quella comunque della carrega, perché noi veronesi diciamo così, all'indomani delle scorse elezioni della nostra vittoria ci sono stati alcuni componenti della nostra lista che non si sono visti nelle loro idee a riconoscere quello che probabilmente pensavano di poter portare a casa e da quel momento hanno pensato a come, quando e quale sarebbe stato il momento in cui avrebbe fatto più male la nostra caduta. Il terzo fatto, ancora più inquietante, è stato secondo me la questione del PAT, perché è forse l'argomento di cui se ne sente meno parlare, ma PAT significa anche interessi, significa tante cose e noi, io in prima persona avevo considerato il futuro PAT come un qualcosa che doveva essere a beneficio di tutta la popolazione di Nogara, in quanto prima di tutto cittadino, invece forse qualcuno voleva portare avanti una visione che era un po' diversa. Ecco, adesso lei oggi si ripresenta, ma che garanzie può offrire che non succeda altrettanto? Quello che è successo comunque quel 30 dicembre penso che sia già un ottimo motivo per ragionarci su, per cercare di capire cosa... Ha cambiato campagni di squadra? Campagni di squadra sì, è una lista che non è effettivamente un monocolore, nel senso che 10 tredicesimi sono comunque della Lega, c'è la riconferma dell'allora vicesindaco più altre due persone, quindi è quasi un monocolore ma non completamente. Sicuramente sono delle persone che, come avevo cercato la scorsa campagna elettorale, sono mosse comunque da un buon interesse per la nostra popolazione, prima di tutto, e non sicuramente per strane alleanze che abbiamo visto in altre liste. Luciano Mirandola invece è candidato della lista Nogara prima di tutto, Mirandola sindaco, lei che lettura dà della crisi che ha portato a queste elezioni? Io credo ci siano più motivazioni, una reale, una difficoltà enorme dovuta a due sforamenti successivi del patto di stabilità, una dovuta alla lista Olivieri, una poi alle difficoltà di risolvere da parte della giunta Faico, credo ci sia stato un secondo elemento che viene sottovalutato ma che è quello dello scollamento della giunta stessa del sindaco da parte della popolazione, il sindaco che era arrivato poi in amministrazione dicendo che era tra la gente e con la gente poi dopo un mese si è cominciato a chiudere nel suo ufficio, non riceveva più la gente da questo punto di vista, credo ci sia stato poi anche un problema di scassa presenza appunto dell'amministrazione leghista nel paese, in termini di Careghe poi Falco Simone ha citato questa storia di Careghe, sarebbe interessante capire come giustifica lui il fatto di avere contemporaneamente tre Careghe, una in provincia, una nell'amministrazione, una nel consorzio e dire poi che fa il tempo pieno e si serve di Nogara per il bene dei cittadini. Mirko Moreschi, lista 5 Stelle, movimento che fa capo a Beppe Grillo, lei che lettura dà di questa crisi? Ma la lettura è molto semplice secondo noi ed è questa, c'è stata una combina fra le minoranze per far cadere Falco, Falco che dal canto suo ha una squadra che non funzionava, che non ha funzionato perché non è riuscita a fare più di nove mesi, detto questo c'è stato un forte lavoro di Mirandola e insieme per Nogara per far cadere Falco con la scusa dell'ospedale, il lascito Stellini, tant'è vero che caduto Falco hanno cercato di mettere insieme un comitato per il bene, per difendere questo lascito, ma che ad oggi anch'io dopo ho chiesto varie volte ai vari presidenti del comitato, ai vari membri di questo fantomatico pseudo comitato diciamo, ma nessuno mi dà risposte. Il comitato ad oggi è morto, è sparito, non si sa dove sia, non ha dato nessuna risposta di questo lascito, mi avevano detto anche che ci sono state, che avevano fatto due interrogazioni all'US21, non si sa se ci sono risposte, a chi hanno risposto, se hanno risposto, quando hanno risposto, questi qua si sono messi d'accordo, è la solita storia, cambiano per buttare giù uno per andare su loro, vanno a casa tutti, devono andare a casa tutti, per forza, dobbiamo dare un repulist, fare tutti, ricominciamo da capo, tiriamo un segno, facciamo resette e cominciamo da capo. Bene, ripartiamo da lei Moreschi, una risposta veloce, è stato citato il problema dell'ospedale, Nogara ha un ospedale che è stato praticamente dismesso, ci sono dei poliambulatori all'interno però questo ospedale essendo un lascito ha dei capitali che sono appunto i terreni circostanti e proprio su quello è iniziata la crisi dell'amministrazione precedente. Allora che idee avete voi per l'ospedale e per i terreni che sono un po' il patrimonio dei Nogaresi visto che arrivano da un lascito, Moreschi. Certo, ma il Movimento 5 Stelle è molto chiaro, ha una semplice riga, noi impugniamo il testamento di Francesco Stellini, ci costituiamo parte civile e dobbiamo far causa all'uslo, i terreni non vanno venduti assolutamente, i terreni sono un lascito che ha lasciato un benefattore come Francesco Stellini, ce li ha regalati, ce li ha donati e adesso se li vogliono vendere per tappare i debiti dell'us da qualche altra parte, non va bene, dobbiamo prendere il testamento e rispettare le volontà di Francesco Stellini, questo si deve fare. Mirandola? Ma io su questa prima parte sono perfettamente d'accordo con quello che dice Mirko Moreschi, va rivendicato a Nogara e i Nogaresi, sia i campi vanno rivendicati che la struttura. Il problema della sanità è un problema complesso, parte da 30 anni fa, quindi ognuno potrà dire che ognuno ci ha messo il suo per fare o per non fare, la sostanza è che la Regione Veneta ha attuato una politica che porterà probabilmente a un ridimensionamento drastico sia di Nogara ma anche poi di Isola della Scala, Zevio, c'è già stata Malcesine, ci sarà Bovolone, quindi è un problema complessivo di sanità. Io dico che nel momento in cui l'ascito Stellini diceva che i beni dello Stellini sono dei poverelli di Nogara e nel momento in cui poi non c'è più la possibilità di assistere i poverelli di Nogara e quindi non esiste funzione sanitaria, noi dobbiamo aprire un'avvertenza con l'US per fare in modo che tutti i beni di Nogara restino in Nogaresi, dopodiché si potrà ripartire. Io credo che ci sia la possibilità di imporre alla Regione e all'US un uso dell'ospedale che vada in parte a livello sanitario minore e in parte sul sociale, quindi una struttura che deve restare ai Nogaresi perché dei Nogaresi è, io dico una cosa, comunque va fatta un'avvertenza nei confronti dell'US perché questi beni non possono essere venduti, sono dei Nogaresi, devono tornare i Nogaresi. Proseguiremo sentendo gli altri due candidati dopo la fascia pubblicitaria. Diretta Verona dedicata alle elezioni amministrative, ospiti i candidati sindaco di Nogara. Stavamo parlando qualche istante fa dell'ospedale, in modo particolare dei terreni dell'ascito di Francesco Stellini, l'ULS li vuole vendere un po' per fare cassa, il rischio è che le risorse non vengano impiegate solo per Nogara, come erano le intenzioni del benefattore. I candidati Moreschi e Mirandola dicono se così non fosse siamo pronti a impugnare il testamento, farlo rispettare fino all'ultimo. Sentiamo come la pensano gli altri candidati. Simone Falco. Sì, sulla questione ospedale di Nogara sono state scritte pagine e pagine dove alla fine è stata la politica purtroppo a portare a certe decisioni ancora anni fa, quella politica che partiva proprio da Luciano Mirandola ancora qualche decennio fa. Quindi adesso che si parli di impugnare testamenti di tante cose forse andava pensato quando ancora le casse regionali, quando tante altre cose ancora lo permettevano. Da parte nostra noi siamo convinti che i nove mesi che abbiamo fatto di amministrazione siano serviti per iniziare un dialogo sia con l'ULS che con la Regione che è stato anche comunque in questa direzione. Non abbiamo assolutamente mai venduto campi, anche perché avrei venduto qualcosa che non era comunque di proprietà del Comune di Nogara purtroppo. Abbiamo però allo stesso tempo detto che se in futuro dovessero esserci e dovrà essere assolutamente l'ultima soluzione delle eventuali alienazioni anche partiali dovranno essere assolutamente reinvestite su Nogara. Noi abbiamo un processo comunque che è già stato avviato di riconversione, un processo che vedrebbe comunque una casa di riposo sfruttare un piano dell'ex struttura Stellini e il primo piano, quindi quello sopraelevato, dove andrebbero ad insediarsi posti per la demenza, cosa veramente molto importante in periodi come questi. Quindi noi siamo convinti che questo si possa assolutamente fare e cercheremo di spenderci al massimo per fare questo. Impugnare, continuare a sentire parlare di impugnare testamenti mi dà ancora l'idea come è successo ormai da 20, da 30 anni a questa parte di voler comunque tenere sempre tutto fermo. Noi abbiamo cercato già la volta scorsa invece di muoverci in questa direzione. Lo stesso assessore al regionale alla sanità non più lontano di un paio di settimane fa ha affermato pubblicamente nella stessa Nogara e spero e lo dovrebbe fare anche prima della fine della campagna elettorale e l'ha fatto da assessore e non da militante della Lega Nord che non c'è stata alcuna vendita e a sue parole, ci sono anche tante registrazioni comunque sia audio che video di questo, qualunque cosa dovrà essere esclusivamente reinvestita su Nogara per dare la dignità alla nostra struttura che ha. Per il resto è stata fatta tanta retorica, si è sentito parlare di lista di salute pubblica prima di parlare di un testamento che va impugnato soprattutto da Mirandola ma non meno anche da Oliviero Olivieri l'atto che potevano fare lo potevano fare il 30 dicembre prima di dimettersi accettando una mozione che comunque doveva andare in consiglio comunale che avrebbe permesso come consiglio comunale e dopo doveva essere allargata a tutte le amministrazioni di dare un messaggio politico all'Ulss21 dicendo quella determina che hai mandato avanti è un qualcosa che noi non accettiamo e lo diciamo come lo dice un'amministrazione quindi attraverso gli atti e non le parole. Benatti Fezzi? Per quanto riguarda la questione ospedale e noi della lista insieme a Pernogara vogliamo ripartire da quello che era l'accordo del 2008 fatto con l'USLA, fatto con le regioni anche noi vediamo sterile il discorso di impugnare ma conviene ricominciare un dialogo, ripartire da questo per poter portare se c'è bisogno anche il discorso, sono d'accordo con il candidato Simone Falco, il lascito che c'è dei terreni di riconvertirlo, eventualmente vincolarlo come è stato fatto per i Nogaresi e per l'ospedale, per riconvertire l'ospedale e creare eventualmente una cittadella, una cittadella sociosanitaria, una cittadella sociosanitaria, sempre la solita storia, un sindaco che non ha idea e c'entifica, l'unica cosa che sapete fare è c'entificare, sempre e comunque, per gli oneri di urbanizzazione, noi vogliamo riportare quello che è possibile, noi vogliamo riportare quello che è possibile una cittadella sociosanitaria a Nogara dove si possa creare anche una settantina, una settantina di posti, abbiamo una struttura lì, la si riconvertisce per poter portare una settantina di posti letto per i non autosufficienti, questo è quello che noi ci batteremo, ci batteremo in regione, ci batteremo anche con l'USL 21 e da questo ripartiamo, l'importante è comunque ripartire da un dialogo. Ripartiamo nuovamente da Enrico Benatti Fezzi, Nogara per due anni di seguito non ha rispettato il patto di stabilità, ha grossi vincoli nella gestione finanziaria del comune, pensate che nell'ultimo anno le tariffe per esempio dei servizi pubblici come il Pulmini per i bambini avevano subito pesantissimi aumenti proprio in virtù del patto di stabilità che non permette ai comuni di fare certe spese, come pensate di amministrare con questi grossi vincoli dettati dalla legge appunto sul patto di stabilità? Certo, allora con l'amministrazione Olivieri effettivamente c'era stato questo sforamento, uno sforamento di 300 mila euro che comunque era possibile, non era ancora compromesso, adesso è aumentato, si deve ripartire con questa coperta qua. Per noi la miglior difesa è l'attacco, per cui si parte dall'approvazione del piano di assetto territoriale perché... Cioè non hai altri... Questo comporterà nuove entrate per il comune per poter risistemare quelle che sono le... E' così che devi dire? Questo è il momento per rilanciare, sia rilancia lo sviluppo economico a Nogara. Non sono tempi facili neanche per l'edilizia, quindi non è detto che urbanizzato si riesca poi a monetizzare. Non è una questione di cementificazione, ma è una questione di riordinamento di quello che è il piano di Nogara. Da questo può nascere tutta una serie di indotti. Può nascere il discorso della Nogara-Mare, può nascere un discorso anche di rivalutazione della zona industriale e questo potrebbe essere una prima mossa per poter risanare questo bilancio. Ricordo che il patto di stabilità non è un meccanismo contabile, quindi non è che il bilancio comunale sia legato a questo. Siamo legati, vincolati sul fatto degli investimenti. No, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Da questo... I soldi anche se ci sono, però non si possono spendere. I soldi anche se ci sono, però non si possono spendere. Cosa? I soldi anche se ci sono, però non si possono spendere. Esattamente. Ma non è che ne è? Spalli di cose che non ci sono. Hai capito? Nati purtroppo che ho tempi abbastanza stretti, Falco, lei ha toccato con mano la situazione, sa quello che ha lasciato, quindi che idea? È stata l'eredità della nostra amministrazione perché il primo giorno in cui ci siamo insediati ci hanno messo sulla scrivania subito la certificazione dello sforamento del patto della Giunta Olivieri. L'allora vice sindaco, assessore anche al sociale, aveva detto che le ditte andavano pagate e quindi era giusto liquidare il liquidabile. Peccato che si sia dimenticato che alcuni oneri potevano essere incassati in tanti anni precedenti in cui anche lui era in amministrazione. Quegli stessi oneri che adesso il programma elettorale della lista insieme per Nogara va a dire che non sono stati riscossi da noi e che dovrebbero essere riscossi attraverso il patto ma ce ne sono tanti che sono da parecchi anni ancora fermi lì e si sa anche a chi fanno capo. Soprattutto non è possibile mettere al pari lo sforamento del patto di stabilità della mia amministrazione con quella comunque avvenuta con l'amministrazione Olivieri perché l'amministrazione Olivieri comunque ha dovuto liquidare delle ditte per fare il rifacimento della piazza che se può piacere o no da un punto di vista estetico a me personalmente no i fatti ad oggi quindi a un anno dopo dicono che si sta sbriciolando proprio come la sbrisolona dolce tipico comunque delle nostre zone. Quello era uno sforamento evitabile che ha portato per il comune di Nogara l'impossibilità di contrarre mutui quindi anche a livello di nuove opere da fare sul comune di Nogara sarà veramente difficile riuscire a fare qualcosa almeno nei primi anni di veramente interessante allo stesso tempo però il nostro sforamento è dovuto in gran parte a mancati contributi entrati dalla Regione Veneto la stessa anche sottoposta al patto di stabilità è un qualcosa che non può essere assolutamente assimilabile. Che soluzioni ci sono per un sindaco o per un'amministrazione? O piangersi addosso oppure cercare di far qualcosa di più. E' chiaro che dovrà esserci un lavoro fatto di concerto ma anche con le imprese presenti sul proprio territorio comunale per cercare anche le cose più semplici come possono essere le organizzazioni delle feste come può essere l'evento, come può essere la gestione di qualunque tipo anche di teatro o quant'altro bisogna cercare di coinvolgere tutte le attività presenti per arrivare e oltretutto anche sorpassare un momento di difficoltà che ci auguriamo possa finire presto. In grandola? Ma ci sono due fatti che sono assolutamente incontrovertivi, l'hanno detto. Sia l'Aggiunta Livieri che l'Aggiunta Falco hanno sforato il patto di stabilità. Non sono tre parole Enrico, non sono un problema di dire che sono parole in questione contabile. Vuol dire che lo Stato ti dà meno soldi, non puoi fare i mutui, non puoi assumere, non puoi investire. Quindi l'assuramento del patto di stabilità vuol dire una povertà reale del nostro comune. Che fare? Che fare? Io credo sia difficile. Vi dico, la commissaria nel giro di 6-7 mesi è riuscita a impostare un bilancio che non risolve tutti i problemi, bisogna andarci dietro, bisogna discutere ancora, che ha dimostrato come fosse possibile in questa situazione andare a una gestione virtuosa delle finanze. bisogna tagliare, avere certezza nelle entrate, avere certezza nell'uscita, da questo punto di vista. Bisogna andare a raschiare il barile su tutte le cose. Ci sono un paio di pezzi di terreno, un paio di mobili forse dismessi che si possono anche... E beh, insomma, che modo campi Mirko? Non chiamo via da vendere le robe, insomma via che è da venderli, nel senso che bisogna fare un minimo di cassa, bisogna incassare 500 mila euro. bisogna andare a riprendere tutti quei fondi che non sono stati incassati dalle precedenti amministrazioni. Sono un milione e trecento mila euro che non sono stati incassati. È possibile che un'amministrazione non incassi i soldi e poi sfori e faccia ricadere tutto sui cittadini. Una gestione corretta, una gestione normale, io credo, una gestione gestibile è quello che ci permette di risolvere i problemi di Nogara. E' interessante notare come quelli che hanno creato i problemi si mettono qua a dare le soluzioni. E' fantastico. Cioè, questi qua vengono qui adesso e ci dicono le soluzioni dei problemi che hanno creato loro. Bellissimo. Dobbiamo riprendere in mano tutti i contratti che ha il comune di Nogara. Il Cisi in fallimento presenterà il conto a breve. Quindi, qui c'è un comune disastrato. E il primo a dare il via al disastro è stato l'assessore di Insieme per Nogara. Che adesso non c'è. Che adesso non c'è, non c'entra niente. Ma non c'entra assolutamente nulla. Questa è un'altra lista. Questa è un'altra lista, niente. Sono sempre le stesse persone dietro a facce nuove come la tua. Assolutamente. Il problema qua è che dovete andare a casa tutti, avete distrutto un comune. Tu hai fatto 320 mila euro di debito, adesso parlo io. E lui l'ha portato a un milione di euro. Voi avete sforato il patto, lui l'ha triplicato. Lui ha detto che dalla regione non vengono soldi. Meno male che alla regione abbiamo Zaia, che è un leghista. Se non ti è da lui, scrivoti chi ti è da lui. E' fantastica sta storia qua. Cioè, ma un attimo solo, ma ve ne rendete conto? Vogliono darci le soluzioni ai problemi che hanno creato loro. Vi lascio a voi giudicare. Bene, allora, si conclude il tempo a nostra disposizione, a quello per Nogara. Ringraziamo i nostri candidati sindaco, ovviamente la scelta ha i nogaresi il 15 e 16 maggio. Li ringraziamo per aver partecipato. Questo è stato l'unico dibattito pubblico con tutti e quattro i candidati. Quindi siamo grati di aver fatto questo servizio per i nogaresi, anche per le persone che sono interessate a questo comune. Dopo la pubblicità, Mario Pugliero vi racconterà qualcosa di Garda.